È un ladro seriale perché fin qui ha colpito almeno tre volte, anche se i furti potrebbero essere pure di più. Con un aggravante come l'assassino nei celebri gialli ha avuto anche l'ardire di ritornare impunemente sul luogo del delitto. Ma per il ladro di offerte nelle chiese ischitane, stando alle scarne indiscrezioni che circolano, il momento di fare i conti con la giustizia, sembrerebbe essere arrivato, visto che ormai gli agenti del commissariato di polizia di Ischia, guidati dal vicequestore Ciro Re, avrebbero chiuso il cerchio risalendo all'identità del responsabile, la cui cattura sarebbe dunque imminente. Come si ricorderà, l'uomo si era introdotto presso la basilica di Santa Restituta, portando via le offerte poste all'interno di un candelabro votivo, ubicato proprio sotto la statua della patrona dell'isola, ma era stato ripreso dalle videocamere di sorveglianza del luogo di culto. Non contento, ha anche ripetuto nuovamente la sua performance, introducendosi una volta di più nella chiesa lacchese, venendo ovviamente ancora immortalato. Sempre al misterioso soggetto è stato attribuito anche un furto analogo commesso nella chiesa di Sant'Antonio a Casa Micciola.